Sindaco, parliamo dell'avvio dei lavori di pulizia dei canaloni, insomma dei fiumi, di quelli che sono i problemi che riguardano l'ambiente. Questo significa voler mettere il territorio in sicurezza? Ebbè, fa parte di quel progetto che è già stato messo in campo da tempo. Vorrei ricordare ai nostri cari concittadini che l'inizio del monitoraggio di tutto era stato già fatto nel mese di luglio, in tempi non sospetti. È chiaro che le procedure burocratiche e amministrative chiedono il tempo che chiedono e siamo arrivati a settembre, ma avremmo voluto farlo già ad agosto. Spero l'anno prossimo di riuscire a programmare prima, avendo già cognizione, di quelle che sono le criticità del nostro territorio. Tenendo conto del monitoraggio, le criticità sono il fiume e credo non solo il fiume. No, allora, il lavoro che si è fatto precedentemente è stato quello di creare una struttura di protezione civile vera e propria che ha avuto il compito di fare alcuni sopralluoghi e alcune verifiche e individuando quali erano le maggiori criticità. Da questo si è proceduti, insieme alla protezione civile, a fare i sopralluoghi per identificare le competenze, perché non tutte sono competenze del Comune di Crotone, ma sono competenze ex provinciali e regionali che passano adesso tutti in capo alla provincia e per cui da qui in poi, ovviamente, alcune opere devono essere fatte dalla Regione Calabria. Con la delega alla protezione civile stiamo intervenendo nell'immediatezza e nella pulizia dei canali che competono nel Comune di Crotone e degli alvei che competono nel Comune di Crotone per mettere in sicurezza, soprattutto da eventuali esondazioni in caso di eventi alluvionali. In più stiamo preparando come comportarsi in caso di eventi alluvionali. Ci sarà una brochure, ci saranno dei manifesti che faremo girare per le scuole, dei totem che metteremo nelle scuole, proprio per dire cosa non bisogna fare in caso di pioggia, soprattutto un invito ai genitori, se i ragazzi sono a scuola, lasciateli a scuola, fateli salire ai piani superiori, ma non andateli a prendere perché diventa la cosa più pericolosa da fare.